... Dai 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 voi andate 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 Questo sto dentro tanto io non prendo le buff adesso, questo giro Piero cd Dai raga merda non c'è spazio nooo merda non c'era più spazio no è andato anche in rage bravi 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 e anche io ho provato a tirare l'antimagic ma no 2, 1, vado Ok Ok mi lancia Prendilo pure Nick L'ho rubato un secondo prima Sono fuori Borga quando vuoi Favori Grande Favori Favori Posso evitarlo questo? Restatemi in Cree Restatemi in Cree ragazzi Fatta fatta Via piega via Ok sono fuori Sono fuori pure via Dai dai Hai tirato di tutto quello che avete Fai un fuori Borgato quando vuoi attimo ah dai giustam troppo a qua grazie Mick ottimo grazie 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 Dai 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 EGG Braaavi EGG